L'area dello scalo di Domodue che Ferrovie dello Stato ha annunciato di voler vendere è gravata da uso civico. I terreni in questione sono dunque un bene della collettività prima che delle ferrovie italiane. Lo erano anche all'atto della costruzione della struttura ferroviaria. Ad oggi dunque le terre in questione non possono essere vendute. Un iter burocratico potrebbe portare allo sgravio del vincolo, poi alla sottoscrizione di un accordo di conciliazione con i comuni sul cui suolo sono ubicati i terreni. A questo punto sì, Ferrovie potrebbe avere la piena disponibilità di quelle terre. Ad accorgersi per primo dello status quo sono stati gli uffici del comune di Beura Cardezza sulla scorta di uno studio che l'amministrazione Carigi ha affidato ad un professionista. Scopo dello studio era quello di mappare il terreno comunale per verificare appunto la presenza di eventuali usi civici. Si è così scoperto che una porzione dei terreni posti all'interno dello scalo solano sono soggetti ad uso della collettività. I 250.000 metri quadrati di terreno che Ferrovie intendeva vendere ad un prezzo di base d'asta di 1.400.000 euro invasi da erbacce e sterpaglie di proprietà dei comuni di Beura Cardezza e Villa Dossola. Anche la giunta toscana sta infatti vagliando l'intera materia. L'assessore Maurizio Romeggio che della questione si sta occupando conferma Abbiamo presente la vicenda, stiamo studiando le carte. Beura in via informale ha già avviato i primi contatti con gli uffici delle ferrovie dello Stato. Si tratta di primi abboccamenti, siamo alle battute iniziali, spiega Davide Carigi. Analogo percorso intende intraprendere anche la giunta comunale di Villa Dossola. Grazie a tutti.